Musica Cari telespettatori di AVLive, ben trovati in questa rubrica nella quale cerchiamo di analizzare sempre al meglio diversi aspetti che riguardano il mondo culturale e artistico della nostra Irpinia e non solo. Lo facciamo sempre con maggiore dedizione, con maggiore energia e AVLive, come sapete, d'abitudine ama dare spazio a tutti, a qualsiasi tipo di meccanismo musicale e a qualsiasi tipo di artista. Oggi nei nostri studi è venuto a trovarci un gruppo, stiamo parlando degli Engage, una giovanissima band nata per quella che era la composizione originale nel 2011 in Irpinia. I musicisti che compongono questa band che sviluppa e strumentalizza e quindi struttura musica che è definita rock cantautorale. Parliamo di Gennaro Caggiano, voce chitarra, Simone Oddo, alla chitarra, Andrea Santosuosso, alla basso elettrico e sono i tre artisti che sono irpini. Poi abbiamo Marika Mirra, la seconda voce, anche voce di accompagnamento nel gergo musicale, e Simone Mozzato, di latina, la ziale quindi alla batteria. Partiamo dall'inizio, parlo con Gennaro, che è nostra compagnia, insieme al chitarrista Simone Oddo. Grazie innanzitutto per aver accettato questo invito, ci siamo sentiti un po' di tempo fa, siamo riusciti a organizzare questo incontro. Gennaro, parliamo dell'inizio, di questo percorso, di questo cammino. Inizio nel 2011, quali erano le idee, proprio in riferimento all'indirizzamento preciso che avete avuto verso questa branca musicale, il primo oggetto di idea del 2011, come nasce tutto? Allora, diciamo, le idee del 2011 sono pressoché invariate, da lì fino ad oggi. Il nostro progetto si rifà molto al nome della band, ovvero Engage, che nell'inglese e americano implica un ingaggio sociale, un esserci nelle dinamiche di tutte le cose che fanno parte dell'esistere umano. Per cui questa era è, e suppongo, sarà la nostra intenzione, il nostro progetto musicale ed artistico e canto autorale. La nostra è una voglia di parlare di tutto ciò che concerne quello che non viene detto, perché non fa audience. Quindi la condizione, direi, quasi disastrosa del mondo dei giovani, è un mondo che non sa provare, un mondo che vorrebbe dare tanto, ma con il quale purtroppo non si parla. Si parla tantissimo dei giovani, ma quando è? Pongo anche a te questa domanda, in tono anche un po' polemico, no? Tra giovani. Quando è che si parla con i giovani e si dice tu che cosa vuoi dire, che cosa vuoi trasmettere, qual è il tuo messaggio? Quindi con questo spirito un po' di protesta, diciamo, nasce la band e nasciamo in inglese, diciamo, per una spinta internazionale. Poi però ci siamo cimentati nella musica italiana, sotto una spinta forte del cantautore Massimo Di Cataldo, che intravide in noi una certa potenzialità, un certo talento, insomma, citando le sue parole. E da lì, insomma, il progetto poi ha preso forma, da che era un semplice ritrovarsi di amici in un garage, è diventato un lavoro vero e proprio. E siamo arrivati qui oggi con gli stessi ideali, suonando meglio, perché comunque c'è stato tanto studio nell'arco degli anni, e con la stessa voglia, invariata, di dire la nostra, di rappresentare la nostra generazione e cercare di farci ascoltare e di parlare in maniera paritaria con gli adulti, tra virgolette, che si pongono nei nostri confronti sempre in maniera, oserei dire, quasi profetica. E far emergere nella maniera migliore possibile il talento dell'irpinia musicale, dell'irpinia del teatro, irpinia di qualsivoglia tipo d'arte a 360 gradi, è anche un grande obiettivo che mi sto ponendo da quando è partita questa rubrica e ci stiamo ponendo anche a livello redazionale con Avilive. Hai parlato di evoluzione, naturalmente in questo percorso che è arrivato a toccare quasi dieci anni di esistenza, un percorso che va avanti dal 2011, durante la quale naturalmente avreste potuto e sicuramente avrete potuto acquisire tante consapevolezze diverse, acquisire la capacità di considerare meglio, guardando proprio da vicino quelli che sono i vostri mezzi, farlo con la più lucida consapevolezza di un artista che si evolve sempre con maggiore decisione durante un percorso musicale. Hai detto che naturalmente eravate più giovani a livello anagrafico, quali sono state proprio le evoluzioni principali? Che ti senti di materializzare i nostri microfoni, facendo riferimento a questo percorso che comunque è partito un po' di tempo fa? Sì, principalmente le nostre evoluzioni musicali sono passate attraverso uno studio continuo, pedisseco, e oserei dire anche malato, insomma, dello strumento ma di tutto ciò che concerne la musica. Nessuno di noi si è mai fermato allo studio di un singolo strumento. Tant'è vero che nelle nostre canzoni credo si evinca abbastanza facilmente una sorta di ritorno alla polifonia, insomma, nessuno strumento nella nostra formazione fa e segue la stessa partitura di un altro. Cerchiamo di fare questo tipo di musica che è poi anche concettuale, perché noi siamo innamorati, tra virgolette, della massa. Noi piace confrontarci, piacciono tantissime voci che portino un messaggio, magari generalmente uguale, ma nello specifico diverso. E quindi è questo che noi cerchiamo di rappresentare. Tramite appunto questa diversità di partiture noi vogliamo rappresentare musicalmente e fonicamente quelle che sono le tante voci delle persone, dei giovani della nostra generazione, tutte quelle persone a cui noi, insomma, facciamo capo e a cui noi ci rimettiamo ogni volta quando pubblichiamo una canzone. Quindi fondamentalmente la nostra evoluzione è stata sì di studio, ma è stata anche, diciamo, un risvolto di una consapevolezza che abbiamo avuto semplicemente dal guardandoci intorno, capendo che non esistono ideali fissi, capendo che non esiste un concetto fisso per qualsiasi tipo di esperienza, di dinamica, insomma, inerente alla vita. Ognuno di noi ha un suo modo di tradurre le proprie esperienze, le proprie esigenze, i propri ideali un'altra volta. E quindi noi questo cerchiamo di rappresentare sia testualmente e musicalmente. Simone Oddo, abbiamo parlato di questo gruppo, come nasce insieme a Gennaro, nel 2011. Naturalmente abbiamo fatto riferimento a quello che è il gruppo odierno, quindi alla composizione di oggi. Quanto è importante trovarsi sullo stesso binario, sempre e comunque, per produrre lavori di un certo calibro, di una certa qualità, trovare l'armonia tra di voi, che siete comunque degli animi artistici. E come ogni animo artistico, tra di voi poi ci possono essere comunque delle divergenze, delle possibili opinioni discordanti, pareri diversi in merito a questo o quell'altro fattore. Ma poi alla fine quello che conta è riuscire ad incamminarsi verso un'unica direzione comune e fare sempre il meglio, insomma, che poi verrà per il presente e per il futuro. Tutti veniamo da studi diversi, ad esempio io e Gennaro abbiamo frequentato una scuola privata, il bassista è autodidatta, il batterista anche. E quindi ogni volta che si devono affrontare questi disguidi, cioè Gennaro ad esempio scrive una canzone e porta delle partiture. Ok, le partiture sono belle, ma ad esempio io preferisco le cose un po' più semplici perché per me danno più impatto. Il bassista non riesce a fare una roba, quindi trovare quell'armonia è un po' difficile. Però, insomma, suonando parecchi anni insieme, molti anni, insomma si raggiunge questa unione alla fine che appunto poi quando ascolterete le canzoni comunque si sente, è evidente, sì. Perché alla fine la cosa importante è questa, suonare tanto insieme. perché più si suona, più si capisce l'altro cosa vuole e insomma i tempi si stringono e escono dei pezzi belli. Ecco, hai parlato quindi di quanto fosse importante trovare l'armonia tra di voi, la consapevolezza dei propri mezzi, riuscire ad andare, come dicevo anche nella mia domanda, in un unico cammino poi per produrre degli ottimi lavori. Il 14 febbraio esce il singolo How. Come nasce questo lavoro, la strutturazione di questa pubblicazione? Allora, How è stato un brano un po' strano perché è un brano vecchio perché appunto adesso facciamo canzoni in italiano e è un brano vecchio e volevamo provare questa questa novità, tra parentesi, ma per noi non è una novità di fare un brano in inglese perché con il nostro brano decadenza abbiamo visto che stiamo andando molto forte in America e in Inghilterra. Dove è possibile riuscire ad ascoltare i contenuti degli Engage? Di questa band che è formata nel 2011 siete presenti naturalmente sulla piattaforma Spotify che può risultare essere una delle più fruibili in assoluto per qualsivoglia fascia di età veramente sta contando molto soprattutto in questi ultimi 4-5 anni. Siete presenti anche sul canale YouTube è fondamentale naturalmente per arrivare a un più largo pubblico possibile l'utilizzo dei social. Che rapporto avete con i social network? Naturalmente ci possono essere fattori negativi fattori positivi in merito all'utilizzo dei social network quindi quali emozioni provate naturalmente nel proporre il vostro lavoro i vostri contenuti ai social network quindi raggiungere veramente ogni tipo di pubblico ogni tipo di esigenza di ascolto ecco che rapporto avete con i social? Beh diciamo con i social abbiamo un rapporto di amore ed odio amore perché è chiaro con l'avvenire dei social è tutto molto più semplice si riesce in un attimo ad essere ad aprire questa finestra sul mondo se prima insomma bisognava aspettare la pubblicazione del brano poi la distribuzione dei negozi in maniera fisica è certo insomma diventava tutto quanto molto più complesso quindi proviamo amore diciamo per i social perché ci aiutano molto nel nostro lavoro devo dire che oggi il musicista e l'artista in generale è imprescindibile dai social cioè artisti e social sono quasi la stessa cosa anche perché ultimamente si è venuto a creare questa sorta di interesse a livello quasi di gossip per la vita dell'artista quindi qualsiasi tipo di informazione anche che non sia musicale interessa al fruitore comune dei social e quindi noi però diciamo cerchiamo di evitarlo questo perché noi vogliamo portare contenuti quindi noi usiamo i social solamente per proporre le nostre idee per dire come la pensiamo riguardo a determinati argomenti e qui entriamo nella parte dell'odio per i social perché troviamo che sia un mondo troppo semplicistico un mondo schiavo delle fake news un mondo schiavo del qualunque di notizie che non importa insomma se ci sia un fondo di verità anche una rilevanza storica insomma un minimo di attenzione riguardo a quella notizia l'importante è che faccia appunto notizia che generi lo scalpore comune che faccia parlare che faccia interessare per non parlare poi dei famosissimi leoni da tastiera quelle persone che insultano e che insomma rendono lo stare del vivere tranquillo e pacifico sui social meno tranquillo e meno pacifico appunto perché generano un clima di paura sì perché dietro una tastiera siamo tutti perfetti a puntare il dito siamo tutti perfetti sui social però perché nella realtà poi c'è questo clima diciamo di questi haters che sembrano essere i primi i primi fan della band per quanto ci riguarda ed anche i primi sostenitori di qualsiasi altro tipo di personalità che decide di lavorare nell'ambito dei social ecco hai parlato del rapporto che gli engage hanno quindi con i social network amore e odio perché ci sono sia dei fattori positivi che dei fattori negativi naturalmente hai parlato dei cosiddetti leoni da tastiera che non perdono certamente l'occasione per far trasparire il loro odio nascondendosi forse tra l'altro anche dietro a dei profili falsi e quindi naturalmente poi c'è anche un altro aspetto che andrebbe analizzato anche con maggior dettaglio abbiamo parlato con Simone di questa pubblicazione che esce appunto il 14 febbraio nel giorno di San Valentino How lui ha parlato del lavoro che c'è stato dietro How che tipo di bernoè qual è il messaggio che manda il tipo di testo che poi mettete in campo con questa pubblicazione allora quando c'è stato comunicato all'etichetta che How sarebbe uscito il giorno di San Valentino mi è partita una piccola risata perché è il brano più paradossale da voler pubblicare a San Valentino però insomma questo paradosso può anche essere interessante da un punto di vista artistico beh dico che è paradossale perché How è una canzone che diciamo tratta di un periodo molto buio della mia vita della mia adolescenza perché c'è da dire che tutte le canzoni che scrivo non sono storie inventate ma sono frutto di mie esperienze del mio vivere è proprio questo il punto principale della mia musica far vedere che i problemi che io mi trovo ad interfacciare ogni giorno insomma sono comuni tutti quanti li abbiamo quindi io ne parlo tranquillamente proprio perché vorrei che questo tabù una volta per tutte venga asfaltato insomma la tristezza la depressione tutte queste malattie io ritengo malattie delle nuove generazioni vorrei che se ne parlasse in maniera più fluida più aperta tornando ad How è un brano che appunto parla di questa tristezza e infatti tradotta la prima fase cita tristezza sì il mio amore in questo film è lo scorcio di follia ed è quello che io provavo in quel periodo della mia vita in cui credevo ritenevo e affermavo anzi che la tristezza fosse l'unica cosa di cui potevo cibarmi emotivamente perché non riuscivo a vedere a ricevere ad assaporare altro nella mia vita e tratto di questo nella canzone e so che è un problema comune e so che verrà anche capita perché a parte l'unità tastiera c'è tutta quanto un'altra savana digitale che ci segue che ci ascolta è fatta di tante brave persone ecco Gennaro ci ha parlato appunto di tanti aspetti legati alla pubblicazione di How anche un altro grande scopo quello che avete perseguito da qualche mese a questa parte è la pubblicazione di un EP che in uscita il 21 febbraio sotto l'etichetta romana rosso di sera records con sede a Roma un EP composto a sei brani che è stato registrato a Monteforto Irpino nel Marco Ruggiero Studio Recordings questa etichetta collegata anche alla Warner Music vi ha dato questa possibilità se non sbaglio proprio perché che vi ha ascoltato nell'ambito di un contest preciso qual era quello legato al primo maggio romano quindi siete arrivati vi siete classificati su 6.000 artisti sia tra solisti e band al quarto posto purtroppo per diverse vicissitudini non siete riusciti a salire sul podio ma a questa occasione poi è stato anche un bellissimo trampolino di lancio per il vostro prosieguo di questo cammino questo EP che si chiama si chiama Pelle composto da sei brani dicevo parlaci di questo lavoro come ci avete lavorato come nasce l'idea del titolo Pelle me lo dicevi anche dietro le quinte naturalmente ecco Pelle questo EP degli Engage in uscita il 21 febbraio si diciamo che il primo maggio hai citato una una bella fase della nostra carriera e potremmo anche dire l'inizio di questa carriera in una fase professionale a tutto tondo insomma l'EP si chiama Pelle in uscita il 21 febbraio ripeto e perché questo titolo perché le sei canzoni che compongono questo EP sono esperienze della mia vita che hanno lasciato un segno una cicatrice un marchio ben profondo e ben piantato in quella che che io chiamo la pelle del mio esistere per insomma per fare un po' il poeta quindi da lì è nato Pelle perché perché voglio raccontare in questo EP le cicatrici che ho sulla mia pelle ma non su quella su quella visibile su quella fisica perché lì passa ma di quelle cicatrici che rimangono e che se non curate ogni giorno rimarranno sempre aperte e quindi ecco qui il titolo di questo EP e c'è da dire che c'è stato tantissimo lavoro musicale ma anche testuale dietro questa uscita perché noi ci teniamo sin da subito insomma a marcare a mettere a sottolineare per bene quello che siamo quello che vogliamo trasmettere e tutto quello che vogliamo dire non vogliamo lasciare nulla al caso nulla all'interpretazione vogliamo che si sappia che noi siamo gli engage e che parliamo di tutto ciò che concerne i giovani di tutto ciò che non fa audience addirittura sì vogliamo vogliamo buttarci da subito la zappa sui piedi come si dice in gergo no ma vogliamo essere anche ottimisti in tutto questo pessimismo e speriamo appunto che il messaggio venga recepito perché veramente ci siamo ci abbiamo messo tutto quello che avevamo in questa uscita e speriamo di insomma vederci al più presto in tutti i club della penisola e questa è un'operazione che veramente non risulta essere semplice quindi riuscire in un certo senso a far persistere quella che è la vostra identità artistica e umana non è certamente un'operazione da poco conto perché naturalmente in un mercato discografico o artistico musicale più a 360 gradi anche a livello italiano naturalmente spesso vediamo talenti che approdano ai cosiddetti talent show naturalmente sia per quanto per quanto riguarda quelli più seguiti anche a livello televisivo o anche quei talent show a livello regionale interregionale ma quello che purtroppo consideriamo che sia una realtà dei fatti è che l'artista che magari riesce in un certo senso a farsi promotore di un messaggio artistico o comunque di una corrente artistica almeno all'inizio di un proprio percorso nei talent show viene completamente smaterializzato dall'idea che viene data poi dall'etichetta discografica da una da una label in particolare che proprio in quel momento comincia a seguire quel determinato artista e in quel momento si va a destrutturare a smaterializzare quella che è la propria identità artistica avete mai pensato all'approdo dicevo appunto di talent show che opinione avete in merito a questi tipi di format se in questi anni avete mai considerato un discorso del genere tra di voi insomma questo aspetto naturalmente se l'avete considerato o no si è chiaro che l'abbiamo considerato insomma ogni band anche la più sovversiva insomma la più rivoluzionaria la più conservatrice no delle di quello che deve essere la musica non commercializzata insomma qualche volta ha carezzato il pensiero dei talent dirti che non ci abbiamo pensato sarebbe ipocrita perché ci abbiamo pensato più volte addirittura una volta ci abbiamo anche provato però nel momento in cui hanno iniziato a volerci tarpare le ali ma non da un punto di vista musicale perché magari c'era un qualcosa che dissonasse in tutto nella nostra costruzione artistica ma da un punto di vista di immagine è lì che noi abbiamo scelto di non volerci più provare con i talent e di voler seguire un percorso libero un percorso propriamente artistico fatto di studio fatto di contenuti non fatto di immagine di belle foto di selfie insomma noi i talent non li condanniamo ma neanche li esaltiamo credo che siano comunque un'ottima un'ottima piattaforma massmediatica nel senso che arrivato alla finale di un talent o anche in semifinale è chiaro che sei sul tetto del mondo tutti parlano di te tutti ti ascoltano addirittura ti apprezzano ma anche se ti criticano insomma i talent insegnano che non esiste pubblicità negativa quindi è chiaro che è un'ottima sfera per un artista emergente noi però abbiamo scelto dopo la brutta esperienza che abbiamo avuto con questo con questo prima citato talent di non volerci più partecipare e di prendere una strada insomma ancora più ancora più tortuosa però devo dire che con la nostra etichetta la rossa di sera records noi abbiamo trovato un clima molto rilassato molto tranquillo e soprattutto libero non non veniamo più criticati perché i nostri testi possono essere in qualche modo contro quella che è purtroppo la gestione politica del territorio intendo dal punto di vista nazionale non veniamo criticati se vogliamo parlare della condizione sociale che attanaglia la nostra generazione ma non solo quindi direi che al momento non potremmo desiderare nulla di meglio abbiamo un'etichetta che riteniamo casa nostra abbiamo uno staff di persone che credono in noi come noi crediamo in loro e nel loro lavoro e quindi mi sento di dire che se una persona se un cosiddetto artista voglia fare l'artista propriamente detto credo che debba lavorare metterci tutto e mai 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 cedere al compromesso quando si parla di produzioni produzioni che vadano ad intaccare quello che è il messaggio che si vuole trasmettere e questo come dicevo prima deve essere anche un'emozione che deve essere sempre presente quindi quella di rimanere se stessi rimanere fedeli alle proprie idee alle proprie concezioni artistiche ma anche umane chiedo a Simone naturalmente in passato c'è stata la possibilità di pubblicare anche altri contenuti come cito testualmente Camel Blue Decadenza e Pioggia che sono tre singoli che fanno parte del bagaglio musicale degli Engage è un successo particolare soprattutto per Camel Blue che soprattutto in ambito di ascolti ha comunque potuto acquisire tanti apprezzamenti diversi quello che c'è stato prima quanto conta per migliorarvi sempre di più e soprattutto come ti spieghi il successo di questi tre singoli in particolare naturalmente in questi anni c'è qualcuno che vi ha incominciato a seguire con un certo tipo di impegno proprio perché c'è poi l'affezione che deriva da un cammino che è comunque durato dal 2011 verso un determinato artista c'è qualcuno che veramente vi segue con amore con dedizione perché crede nella vostra potenzialità allora parlando di Camel Blue sì il brano è andato e sta andando molto bene perché comunque è stato il brano con cui noi abbiamo partecipato al primo Maggionext appunto quello che Gennaro prima ha spiegato ed è appunto il primo brano che abbiamo pubblicato in italiano e per decadenza che è stato il secondo è andato comunque bene come come Camel Blue però quello che a me è insomma musicalmente parlando ovviamente è piaciuto di più è stato Pioggia perché è una sonorità molto inglese quella di Pioggia quindi appunto come ho detto prima è un brano che è andato molto bene in America e in Inghilterra e questa cosa a me è piaciuta perché comunque i suoni lì sono un po' più spinti più forti quindi insomma dato che sono un chitarrista elettrico cioè sono la chitarra elettrica cioè a me piace di più avere questi suoni un po' più forti e decisi quindi sì alla fine stanno andando tutti e tre molto bene sono curioso di vedere come andrà AU e LEP soprattutto Pelle sono molto curioso di vedere come andrà ecco chiedo sempre a te Simone naturalmente avete avuto l'opportunità di mostrare i vostri mezzi musicali in diversi palcoscenici in ambito nazionale adesso non so se vi siete spinti anche oltre i nostri confini ma naturalmente il viaggiare avete scoperto tanti luoghi diversi avete partecipato come ho prima citato insieme a Gennaro il contest che fa parte delle nuove proposte in riferimento al concerto del primo maggio nella capitale l'esperienza del viaggio anche tra di voi raccontaci qualche aneddoto particolare allora i viaggi le trasferte come le chiamiamo noi sono sempre bizzarre perché sono bizzarre sono divertenti perché comunque cioè viaggiare insieme comunque è stancante perché comunque farsi tante ore di treno di pullman insomma arrivi abbastanza finito però arrivare negli hotel o nei b&b ad esempio milano o torino che alla fine cioè tu sì arrivi stanco arrivi che comunque stai esausto però non dormi cioè fai casino è molto divertente molto divertente esatto rock and roll quindi sì cioè i viaggi sono belli però sono molto stancanti ecco però veramente poi ve li porterete dietro per insomma per un po' di tempo Gennaro c'era qualcuno che diceva che la musica può salvare il mondo cosa pensano gli engage la pensiamo allo stesso modo di Jim Morrison sì la musica può salvare il mondo e la musica lo salverà sicuramente ma più in generale l'arte lo diceva anche Dostoevsky nell'idiota la bellezza salverà il mondo una bellezza intesa non come il Brad Pitt di turno insomma salverà il mondo ma come la spinta che ha l'essere umano inconscio di fare di fare del bello del bello che può essere un quadro che può essere un libro una poesia una canzone io sono totalmente d'accordo e siamo totalmente d'accordo anche perché questo è un principio fondante fondamentale della nostra etica professionale quindi sì siamo totalmente d'accordo e ne siamo sicurissimi che sarà così ai nostri ospiti spesso rivolgiamo questa domanda in particolare se dovessi definire il percorso quindi degli engage che parte nel 2011 oggi siamo nel 2020 attraverso l'utilizzo di tre aggettivi in particolare quali sarebbero? arrabbiato determinato quest'ultimo aggettivo voglio che sia tristemente soddisfatto ecco anche c'è questo pizzico di ironia di Gennaro Caggiano ecco chiedo a Simone siamo quasi giunti in addirittura di arrivo di questo incontro con gli engage è più semplice partire a razzo per un percorso musicale per poi decadere sempre più inesorabilmente o è più semplice partire con i piedi ben puntati a terra e poi riuscire a lanciarsi in un modo determinato nel panorama musicale diciamo che vabbè la prima che parti a razzo e ti fermi subito alla fine sarebbe quella più facile però a cosa serve non serve a nulla cioè si ad esempio talent fanno questo secondo me cioè vinci un talent per un anno fai di tutto e di più e poi sì non si sa più chi sei non si sa più cosa fai e quindi perché appunto non c'è una crescita del musicista e quindi ovviamente noi abbiamo scelto la seconda cioè perché senza fondamenta alla fine è come come le case se no se non se non metti delle fondamenta buone la casa non sta su è lo stesso concetto alla fine Gennaro se c'è qualcosa che in questo percorso avete sbagliato o che al momento facendo riferimento al presente non siete contenti di aver fatto cos'è? beh sicuramente un rimpianto ma non così esageratamente grande che porteremo per sempre è quello di non esserci subito messi in gioco come abbiamo fatto insomma due anni fa quando è iniziato tutto e siamo stati travolti da questa bellissima avventura sicuramente è quello anche perché tante canzoni che stiamo portando oggi sono canzoni che scrisse addirittura a 15 anni quindi questo mi sa che è l'unico rimpianto che noi ci porteremo ma col tempo diminuirà sicuramente non ce lo ricorderemo neanche più vi faccio un nome Federico Moccia che è un regista affermato soprattutto nello scenario italiano e non solo avete avuto l'opportunità di conoscerlo di capire bene che tipo di qualità ha nel mondo del cinema qual è l'esperienza che state continuando da vivere in questo presente con lui come vi state affacciando a questo tipo di programma questo planning che poi è particolare perché state entrando in uno scenario che finora non avevate ancora sperimentato nel dettaglio certo sì con Federico Moccia abbiamo iniziato questa splendida collaborazione che ci porterà da qui un anno insomma a girare un po' tutta l'Italia in tutte le librerie d'Italia sì perché con Federico Moccia noi stiamo approdando nelle presentazioni dei suoi libri ma non solo di Federico Moccia anche dell'Albatross Edizioni e insomma stiamo portando musica nei posti in cui la musica non c'è mai stata insomma nelle librerie a meno che non venga un artista a fare il firmacopie ci va poca gente non ci va nessuno a suonare e noi stiamo facendo questo nell'ambito di una presentazione di questi di questi due libri che sono il primo di Federico Moccia ragazza di Roma Nord e il secondo dell'Albatross Edizioni di Antonio Caggiano guarda che moon tonight noi ci esibiamo e portiamo avanti quella che è la nostra etica professionale una etica che è fatta di cultura perché noi siamo pro lettura siamo insomma siamo convintamente sostenitori del fatto che la cultura renda liberi che ogni lettera ogni parola letta da un libro sia un anello di una catena di ignoranza in meno quindi è questo il nostro è una cosa che ci rende contentissimi questa poter intervenire in ambiti culturali poter portare cultura nella cultura è una cosa davvero che quando ci è capitata non ci tenevamo davvero in piedi per la gioia insomma è stata una cosa bellissima e lo sarà tuttora e allora siamo davvero in chiusura ricordiamo che il 21 febbraio gli Engage saranno in uscita con questo EP Pelle il titolo abbiamo detto contiene sei brani sono presenti anche attraverso un proprio canale youtube dove è possibile usufruire dei loro contenuti l'appello che vi sentite di fare ai telespettatori di AV Live e non solo affinché possano usufruire del vostro lavoro della vostra qualità musicale che se so io veramente considero di eccelsa fattura ai nostri telespettatori dicevo l'invito e quindi il messaggio verso questo ascolto dell'EP Pelle è un disco che parla un po' di tutti noi mi rivolgo ai miei coetane insomma alle generazioni alle nuove generazioni è un disco che non racconta solo la mia storia racconta la nostra storia perché io ho avuto diciamo il coraggio di parlarne di volerne parlare ma sono sicuro che dall'altra parte di questa telecamera ci saranno persone che sicuramente avranno avuto esperienze anche più brutte delle mie quindi il messaggio che vedo rasmettere è abbiate sempre il coraggio di parlare e di essere sempre comunque sfacciatamente voi stessi perché non c'è cosa più bella della diversità e dell'incontro di diversi stili di vita di diversi comportamenti di diverse opinioni quindi ripeto siate sfacciatamente voi stessi siamo davvero in chiusura chiedo a Simone l'ultima battuta abbiamo fatto riferimento al vostro passato abbiamo dato uno sguardo al vostro presente e abbiamo delineato perché poi è solamente questo che possiamo fare il vostro futuro l'esperienza da Vlive come è stata? divertente e imbarazzante imbarazzante sì e ovviamente c'è sempre Gennaro che è molto bravo a parlare io un po' di meno però sì è stata una bella esperienza mi è piaciuta venite venite a fare interviste grazie a voi cari telespettatori di Avilive vi ricordo che è possibile seguire anche la nostra pagina Instagram oltre a trovarci su Facebook su Youtube dove ogni giorno vengono caricate le storie che fanno riferimento agli articoli del sito Avilive e anche un post che è un aforisma una citazione del mondo del cinema o del teatro o anche ha immagini foto di paesaggi della nostra Irpina della Campania ma anche in generale della nostra bellissima penisola italiana a Autore dei sovrapposti